Eccoci qua, buonasera a tutti. Altro mercoledì, altra diretta. Comincio subito a bere intanto che si connette qualcuno. Allora, per prima cosa non posso che esprimere la mia gioia perché finalmente posso fare dirette con le finestre chiuse perché ha smesso di fare caldo, quindi smetto di respirarmi le sigarette dei miei vicini perché finalmente riesco a stare con la finestra chiusa. Dunque, ciao. Comincio, diciamo l'argomento, ciao a tutti, ciao, argomento main event, come dire, della serata. La domanda qua sotto, o perlomeno prendo come spunto la domanda qua sotto, per fare un po' il mio delirio del mercoledì. Domanda normalissima, come tante più che altro. Pimpress, 5x4, andrebbe bene? Ora, perché dire che va bene o non va bene? Buonasera. Perché un 5x4 può andare bene o non andare bene? Perché fondamentalmente del 5x4 in sé non gliene può fregare niente a nessuno. Che io faccio un 5x4, 5x3, 10x2, 9x1, non è importante. Cioè, in quasi tutte le dirette, il mercoledì io ricevo una sfilza veramente di domande in cui mi si chiede, faccio 6x3, cioè un set rap a caso, va bene? risposta più ovvia è non ne ho idea, nel senso che come lo vedi? Mi chiedete. In realtà come lo vedete voi è la vera domanda, cioè se l'avete ipotizzato immagino ci sia un motivo per cui abbiate scelto quel determinato tipo di lavoro. Ma in linea di massima come riuscire a capire se io abbia fatto un lavoro che abbia un senso, come faccio a sapere se quel set rap ha un senso. Ci tocca tornare a parlare del concetto, o perlomeno della classica divisione di lavoro del libro di Isratel, ovvero, come era? I principi dell'allenamento della forza, ora non mi ricordo in inglese come si chiamava. E questo bel libro ovviamente divide le priorità con cui creare una scheda in una piramide di 7. In cima alla nostra bella piramide, che in realtà è un rettangolone, cioè il rettangolone che contiene tutti gli altri rettangoli, come ad esempio sovraccarico, stress recupero, eccetera, è il principio della specificità. Esatto, scientific principle of strength training. Non mi veniva. E non mi viene neanche leggendolo, quindi figurati a memoria. Poi rispondo alle domande che vedo scorrere, finisco un attimo il discorso. Quindi, in questo caso, pin press, ovviamente l'obiettivo sarà migliorare la mia panca, quindi di per sé, a livello di specificità, va benissimo la scelta di quell'esercizio. E a livello di ripetizioni, ovviamente non conta tanto, come dico ormai praticamente una volta alla settimana, non conta tanto che io faccia un 5x4, 5x3, quello che volete, quanto che ovviamente io ci faccia una progressione con questo set rap che scelgo. detto ciò, come scegliere il range? Ovviamente 5x4, 6x3, 5x10, eccetera, sono solo numeri. Quello che conta è ovviamente capire che quel determinato range di volume va attribuito ad un'intensità e questa intensità ovviamente cambia a seconda di quello che è il mio obiettivo. Indicativamente, sempre per via dei soliti studi, se sto sotto l'80% sto facendo ipertrofia, sto facendo più facilmente ipertrofia, mettiamola così, e se sto sopra l'80% sto ovviamente facendo un lavoro più orientato alla forza, un lavoro più neurale che mi permetterà di aumentare di più il massimale. Tutto qua, nel senso, chiedere a qualcuno come vedi qualcosa ha relativamente poco senso, come ad esempio una domanda che non ho voglia di cercare era come la vedi fare un superset di, mi sembrava, pullei e rematore in ottica powerlifting. Boh, nel senso non ce lo devo vedere io, ovvio che in ottica powerlifting fare un superset di rematore con un pullei ha decisamente poco senso. Ha senso nel momento in cui lo uso come complementare per la schiena, che io ci faccia un superset, magari ho poco tempo, benvenga a fare un superset, magari mi piace lavorare in quella ottica, voglio fare un lavoro più pretrofico per la schiena, però chiedere a priori come lo vedi, mi dispiace rispondere ovviamente perché quando mi fate queste domande volete un parere, però è anche difficile dare un parere senza sapere la persona cosa fa e ovviamente senza sapere come sarà inquadrato quel lavoro nello specifico. Fatto il delirio, torno su e mi guardo tutte le domande che ho visto arrivare perché ho visto scrivere. Allora, 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 allora. Dove è finita? L'avevo vista. Dopo due mesi in cui non allenavo le gambe, è normale che ho perso 20 kg sulla serie rapida dello squat? Sì, è normale, ma è più che altro una questione neurale, nel senso ti sei diabituato al carico perché alla fine due mesi, sì, non sono pochissimi, però hai perso più che altro feeling col carico. Io, guarda, per un po' di anni ho fatto un periodo in cui per sei mesi, ad esempio l'ultima volta è perché mi ero cominciato ad allenare a corpo libero, quindi in casa difficilmente potevo fare squat e stacchi, appena ho ricominciato stacchi, 60 kg, mi sembravano pesantissimi, cioè non li sentivo veramente in grado di sollevare più di 60. settimana dopo, 80, 100, cioè ho fatto progressioni di 20 kg alla settimana, quindi è solo una questione di abituarsi di nuovo a carichi che prima facevi, anche solo, basti pensare che se tu fai un lavoro di picking, cioè cerchi di abituarti a carichi alti, se tu non stai sempre in intensità alte, perdi feeling con quei carichi, quindi figurati non allenandoti. Pupupu, domanda, aspettate che l'ho vista, poi c'è una sotto che come al solito non troverò. Stacco sugli alzo step al posto del classico stacco da terra, va bene perché ho un'ernia lombare? Questo è difficile da dire perché ovviamente poi non voglio che la gente vada in giro a farsi uscire ancora più ernie, perché l'ho detto in una diretta. Sicuramente lo step aiuta, a tenere la schiena più dritta, però come sempre devi essere tua da sentire se... Non rido perché mi hai continuato a chiedere dell'ancascatto. Rispondo. Oggi è la domanda del giorno. Dicevo, fare stacco su step alti aiuta perché riesci a tenere la schiena più dritta in partenza ovviamente, però non lo so, nel senso dipende da dove tu hai l'ernia, come te la sei fatta, cioè alla fine anche McGill, sì McGill si chiama, che è il massimo esperto di biomeccanica della schiena, fa fare stacchi lui come riabilitazione, ma non è che ora tutti quelli con l'ernia devono andare a fare stacchi perché altrimenti va a finire che c'è ancora più gente con l'ernia. Dunque, aspettate che... Ho visto... Arrivo, eh, che mi avete scritto in contemporaneo. Allenandosi a casa, su quali esercizi si possono fare le gambe se si va a descludere squat e stacchi? Beh, allora, puoi fare pistol, a patto che tu comunque li impari nell'ottica di farne tanti, quindi sovraccarico, che so, un kettlebell, però i kettlebell costano, quindi un sanno disco in mano, pistol oppure farne veramente tanti, puoi fare mille tipi di affondi, puoi fare gli step up su una sedia, puoi, con un complesso sistema di carrucole, no? Puoi farti un gluten rise, puoi fare comunque sedi, manubri, dei vari stacchi, insomma, lavori di gambe ne puoi fare. Ovvio, di isolamento no, però te la cavi. Ciao Alessio, ciao, grazie per avermi salutato. Mi suggeriresti il nome di un programma che segue una periodizzazione ondulata oltre al ciclo russo? Smolov? No, vabbè, no, in realtà sì, solo che lo Smolov è ancora peggio del ciclo russo. Il corte, più fattibile. Meglio un programma di due mesi di un personal trainer online o un pacco di... Cardarina allo stesso prezzo? No, io preparerei due mesi di personal trainer online. Squat haste grass, utile o meglio andare sotto il parallelo senza scendere eccessivamente? Beh, no, se tu hai la mobilità di andare fino a cuo la terra, vai cuo la terra. Ovvio che se tu magari vuoi fare powerlifting o ti alleni in ottica powerlifting, è più conveniente stare magari in zona parallelo, anche perché magari lo fai low bar, lo squat. Però se tu vuoi fare squat in attica e per trofia, molto meglio fare squat cuo la terra. Poi per femorali e compagnia ci fai stacchi, eccetera. Che ne pensi del juggernaut? No, mi viene da ridere perché oggi me l'avete chiesto in tantissimi del juggernaut, sembra che è spuntato da qualche parte perché è una domanda che ho ricevuto almeno 4-5 volte, altre non le ho neanche pubblicate. Allora, il juggernaut, se non ricordo male, è un programma prettamente di preparazione atletica. Quindi il buon Chad, se non sbaglio, l'ha fatto per giocatori di football. Se non sbaglio era in monofrequenza, questa è l'unica cosa che mi ricordo, perché mi ricordo di averlo letto nel 2015, quindi un bel po' di tempo fa. Se non erro era in monofrequenza e in generale a me i programmi in monofrequenza non piacciono troppo, per quanto siano validi, quindi gusto personale. Però devo riguardarmelo, a questo punto mi avete beccato impreparato perché non me lo ricordo proprio. Durante lo squat non riesco a superare il parallelo, continuo a fare squat o lo sostituisco? Continuo a fare squat perché altrimenti non riuscirai mai a fare squat, cioè va benissimo non riuscire ad andare sotto il parallelo, lavora per andare sotto il parallelo, mentre col tempo magari fai altri complementari, cioè ti fai complementari di mobilità sullo squat e poi, che so, fai della leg press, hack squat, roba più ipertrofica, diciamo. Per migliorare la mobilità dello squat, ad esempio box squat classico. A proposito, ad esempio, al workshop che ho fatto domenica, c'erano... ah, in moltifrequenza, allora me lo ricordo zero, guarda. Mi ricordo che mi era piaciuto perché avevo detto è valido, però ho troppi programmi tipo Matrix che mi scorrono in testa, non me lo ricordo. E dicevo, tantissime persone che facevano fatica a scendere nello squat, in realtà, per magia, se gli mettevi un box dietro al culo, riuscivano a scendere bene, perché senza un riferimento spesso le persone hanno paura a scendere sotto il parallelo, cioè scendono rigide della serie, oddio, morirò, fin dove devo scendere? Se tu invece ci metti un box, hanno un riferimento, scendono più tranquille e quindi tendenzialmente riescono a fare squat meglio. Ovvio che se tu hai problemi di rigidità, ti serve comunque un riferimento un pochino più... più alto del classico parallelo, quindi magari ti piazzi uno step, due step, dieci step dietro al sedere, e scendi fin dove sei tranquillo e piano piano col tempo abbassi questi step per riuscire a fare squat fino al parallelo, almeno. Allo stesso tempo piazzi tutti gli esercizi di mobilità che ti possono essere utili, che sia mobilità della caviglia, che sia mobilità della catena scenetica posteriore, femorale, eccetera, che sia tutti e due, quindi... No, devo ripassarmi il gioco in nato, odio, non ricordarmi i programmi quando me lo chiedete. E oggi me l'avete chiesto tutti, cioè me l'avete proprio beccato in fragrante. Hai detto di esserti allenato con i gripper, sì, ce li ho. Quale è stato il tuo approccio? Quante volte a settimana? In quante serie? Quante rap? Grazie come sempre per le risposte. Allora, onestà più totale. Con i gripper malenavo totalmente, a caso. Avevo visto dei programmi, però non mi piacevano, non ne capivo le logiche. Tendenzialmente... Allora, avevo tutto il pacco, quello da 100 libri fino a 350. Semplicemente andavo di max rap, nel senso che mi scaldavo con quello da 100, 150, e poi tendenzialmente mi allenavo col 200, 250. Perché proprio quando la giornata era buona riuscivo a chiudere il 300. Dei heavy grip, non quelli della... La sigla è COC, ma per cosa sta? Che ovviamente senza la K è COC. Non mi ricordo. Comunque, due o tre volte a settimana. È che gli avambracci comunque pesano. E continuo a dire che voglio riprenderli perché comunque sono divertenti, ma non... Cioè, mi ci manca solo che allenare ancora la presa così. Però, onestamente, lo rifarei volentieri. Avevo provato anche il bending, ma no, decisamente non fa per me il bending. Il heavy grip già sono più divertenti. Una cosa che mi piaceva di più fare, che è un'altra prova del... del Captain of Crash, ecco come si chiamano. È chiudere le molle, quelle più leggere da intorno alle due, con una carta di credito in mezzo e riuscire a tenere chiuso il più possibile. Ovviamente, appena apri di un millimetro la carta di credito cade e quindi è piuttosto dura da tenere. Immagino la risposta, ma come vedi levi duty da bocciare categoricamente? Ebbè, tendenzialmente, secondo me, è un metodo che... Cioè, vedevi gli allenamenti di Menzer, era un pazzo, cioè... E per farlo, secondo me, devi essere dopato e pazzo. O pazzo perché ti dopi, o pazzia dovuta al doping. Però, no, erano allenamenti veramente con tecniche che i comuni mortali muoiono. Cioè, in un mondo in cui tutti sono straconservativi, raggiungere quei livelli di intensità lo vedo veramente difficile. Quindi, non starei a consigliare levi duty per la maggioranza delle persone. Si può provare, magari in un periodo in cui dici minchia, ho fatto mesi di volume, ci sta fare un mese di solo intensità, schietta. Però, poi, devi vedere tu se effettivamente riesci a fare levi duty come veniva fatto in origine. Cioè, non è solo una questione di cedimento, è andare oltre il cedimento. Sinceramente, io facessi un set di quel tipo, fatti proprio come le faceva lui, come erano fatti, a me esplode tutto. Cioè, quindi, tolto il doping, tolto il cedimento, è proprio una questione di resistenza personale. Dunque, scusate. Squatter Multi Power, è utile? Sì, come dico sempre, allora lo Squatter Multi Power è un'altra macchina. Cioè, così come fai l'Alepress, puoi fare lo Squatter Multi Power. C'è la moda di dire che il Multi Power è una merda, però se è una merda il Multi Power, è una merda l'Alepress, è una merda tutto. Cioè, quindi non... Ovvio che sono linee forzate, ma allora le palestre dovrebbero essere vuote, dovrebbero esserci solo dei Power Hack. Visto che tutti, bene o male, usiamo delle macchine, anche il Multi Power è una macchina, quindi tanto vale imparare ad usarla, piuttosto. Poi, Squatter Multi Power, sto seguendo il tuo 5x8, quanto tempo dà il 60% al cedimento? Sei settimane? Circa, se ci può stare, anche 8. Esatto, sì, non avevo visto i commenti, sì, non mi veniva Captain of Crash. Comunque le gripper, che dicevo, sono quelle, sono carine, è che costano veramente un puttanaio, per quello avevo tutto il set dell'Iron Mind, no, sono la stessa cosa, non mi ricordo, vabbè, vabbè, avevo la versione low cost di Amazon, che comunque ci avevo lasciato dei gran soldi, che sono più pratiche, se uno vuole provare, perlomeno vendevano i pacchetti, piuttosto che la singola molletta, come le Captain of Crash. Pull up zavorrati, alternare sbarra ad anelli, o continuare solo sbarra? Vanno bene entrambe le cose. Ciao Alessio, ciao Daniele, ti chiedo, difficoltà a mantenere nello squat neutralità curva lombare, sacra in buca, andando in retroversione, meglio accentuare, lombare in partenza per ovviare, sì, potresti provare, non è detto, però che non ti succeda, cioè può succedere comunque, anche se tu sei tanto iperesteso, se sei poco mobile, anche se parti con la schiena tipo trampolino, giù la perdi. Bisogna vedere perché la perdi, se è un problema di mobilità, oppure se è un problema di tecnica. Cioè, sempre per citare il workshop che ho fatto domenica, perché comunque mi è piaciuto un sacco, quindi se c'è qualcuno del workshop lo ringrazio ancora per essere venuto. Molte persone hanno la mobilità per fare per fare squat, però non riescono ad applicarla, quindi non sempre bisogna fare stretching, a volte è semplicemente una capacità di riuscire a traslare la mobilità che hai sullo squat. Come la panca, cioè io veramente vedo sempre persone che chiunque sa durere e abbassare le scapole da in piedi, da fermo, da seduto, però è difficile applicarlo sotto un carico, quindi la panca quando li vedi nel setup da in piedi, micchia, sono tutti perfetti, il problema è che poi non si sanno sdraiare sulla panca, che è normale, richiede pratica, quindi ci sta a perdere la lordosi, non è neanche così grave, quindi arrivo ragazzi che vedo che mi state tempestando e mi fa piacere tra l'altro, però si possono fare le domande e si è pieno di domande, quindi anche questa era una domanda. Sulla panca sento lavorare le spalle più del petto, faccio già l'arco e depilmo le scapole, ciò mi succede se usi i manubri, continuo con la panca? E se senti di più le spalle non vorrei fosse una questione di traiettoria, cioè che tocchi troppo alto, prova almeno. Consiglio a babbo che ti posso dare su Instagram, di solito se senti troppo le spalle è perché tocchi in alto, che non è neanche sentire le spalle ma sentire il tendine del capolungo del bicipite. Se lo smettessi di grittarmi il naso sarebbe meglio, però vabbè. Quanto possono dare in termini di forza e ipertrofia a fondi con max interducki? E boh, cioè, questo è chiedere troppo. Questo non te lo so dire. Domanda spirituale, quando vuoi superare te stesso, nutri i tuoi demoni sul trimaglione o li sconfiggi alla road training? No, in realtà mi esalto guardando i video motivazionali di tipo del bravo ragazzo anni anni 90 89 va di Dragon Ball con il Linkin Park sono la cosa più motivante per concentrarsi. Consigli per imparare a fare la verticale? No, comunque a parte tutta la motivazione è almeno per come ho imparato io negli anni che ho sempre applicato metodi stile RTS RPE quello che conta nell'allenamento e quello che mi ha sempre dato più o meno nell'allenamento è avere la serie target ovvero quell'unica serie in cui ti devi concentrare davvero in cui devi fare o una ripetizione in più della volta scorsa o un mezzo chilo in più cioè secondo me l'allenamento alla fine è semplice perché è tutto da sintetizzare nel cercare di fare una volta a settimana magari per esercizio non per forza in tutte le sessioni o magari in ogni esercizio in tutte le sessioni quella ripetizione in più quel chilo in più cioè quella cosa in più rispetto alla settimana scorsa che sia anche veramente mezzo chilo di più cioè fatta quella poi ci sono i back off ci sono gli altri esercizi una serie però una serie fatta bene pesante più pesante è secondo me quello che serve semplicemente per l'allenamento poi tutto il resto viene da sé consiglio per imparare a fare la verticale allora me la chiedete in un sacco però da un lato sono in imbarazzo perché non è che io abbia questa verticale stratosferica il massimo che sono riuscito a fare con la verticale è non cadere giù da un fiordo in Norvegia tra l'altro ci rivado tra due mesi non è detto che io non ci cada in un fiordo nel caso è un bel modo di morire detto ciò stronzate a parte dicevo non ho tutta questa verticale dall'altro lato secondo me bisogna stare attenti anche a non complicarla troppo perché comunque la verticale è una cosa che fai dai bambini cioè alla fine citando i do portal la verticale è sempre quella cosa che lui dice ai genitori rifarito i bambini cioè lasciate che sporchino il muro cioè fategli sporcare il muro cioè fategli giocare e attraverso il gioco si arriva a capire questi movimenti quindi sì se io vado se in un gruppo su facebook handstand anonymous che è pieno di mostri tra l'altro gente che allena la verticale tre ore tutti i giorni stra tecnici però è anche vero che una verticale base è teoricamente semplice quindi devo cercare un attimo di mettere insieme queste due cose cioè mettere una cosa della ginnastica che è comunque complessa esposta in modo che si capisca che comunque non voglio parlarne in quel modo appena trovo questo questo modo di parlare del verticale ci faccio un video dunque ho visto delle domande su scusate che mi sono dilungato quando mi parlate di verticale io poi tendinite retto femorale oh che bello niente squat potrei risvolgere rafforzando i glutei e no risolvere rafforzando i glutei non credo se ti passa come tutti le tendiniti è sempre difficile dare dei consigli su come risolvere le tendiniti quindi anche lì quella cazzo di anca scatto che mi è stata chiesta 12 volte e sotto visto recupero di un fortunio al ginocchio non so cosa cioè io non vi dico come recuperare da infortuni l'unico consiglio che posso darvi quando avete infortuni è girarci attorno il più possibile tendenzialmente tendenzialmente se hai una tenita retta femorale che tra l'altro è strana cioè è difficile credo venghi venghi fantastico che venga scivolone fantoziano perché stavo leggendo altre domande scusate è difficile venga cioè non l'avevo mai sentita girarci attorno con magari ipthrust cose di questo tipo cioè tendenzialmente l'ipthrust non dovrebbe coinvolgere i femorali tanto da farti male poi nel senso quando sono infortuni l'unica cosa è faccio un esercizio mi fa male si no a posto cioè ad esempio ho avuto per anni per anni si purtroppo perché alla fine stessi somma sono stato un anno con un ipritrocleite e epicondilite come mi allenavo facendo le cose che non mi facevano male semplicemente ovvio che comunque dovrei testare e capire cosa non ti fa male però è un misto tra allenarsi avere un po' di dolore e sperare che quell'esercizio non ti faccia male però è un cercare ovviamente se hai una tendinite a rete femorale magari cercare tutti gli esercizi che coinvolgano almeno possibile femorale venghi sì no il venghi me lo porterò dietro finché campo cioè io che tra l'altro sono un gran marnazzi ma perché in realtà c'ho venghi che è un cioccolatino lì davanti quindi mi sono messo a leggere il cioccolatino mentre parlavo e ho unito il venga al venghi marcatraio dunque ah sì no è da mezz'ora che ho questa domanda a parte i miei scivoloni fantoziani in un regime di ipertrofia meglio c'è spresso o panca piana non c'è un meglio come dico sempre quando c'è una domanda con meglio fare questo o quell'altro se ci fosse realmente un meglio lo farebbero tutti quindi non esiste un meglio quello che è meglio è farle entrambi cioè io ad esempio faccio no vabbè panca piana la faccio una volta ogni sei mesi faccio i miei molti articolari pesanti però l'accia express nel mio ball di building day che è il sabato faccio l'accia express perché comunque una macchina ci può stare cioè perché dover per forza scegliere puoi tranquillamente usarle entrambi l'accia express ha tutti i suoi pregi tipo tensione continua se sono io adoro ad esempio le convergenti cioè che parti largo e chiudi stretto credo siano tutte così in realtà però hanno beccato un paio di express di merda che non lo erano adoro ancora di più quelle convergenti in alto quelle sono fantastiche quindi non è necessario dover scegliere per forza poi la panca ovviamente la panca è l'esercizio è utile per il petto a livello di coordinazione comunque è un esercizio per tutto l'hpper bobby l'hpper minchia non riesco a parlare stasera per tutto l'hpper body mentre l'accia express è molto più settoriale richiede meno setup ci puoi fare più pump cioè nella panca ad esempio difficilmente ce le fai però è più difficile farci 10-12 ripetizioni mentre con l'accia express volendo lavori molto più a a densità volendo recuperi bassi cedimento insomma l'accia express ha il suo perché dunque venghi la prossima domanda dove lo è vediamo se la trovo perché come sempre purtroppo instagram è veramente allora niente non trovo se avete domande fate pure intanto che cerco una domanda che mi è stata fatta sull'adesivo che però non trovo più no quindi in generale mi sarebbe come dire squat piuttosto che boh leg press sono due esercizi diversi nella leg press puoi fare determinati lavori nella nella squat nella leg press ne fai altri quindi non non sceglierei mai cioè la risposta meglio uno o l'altro no meglio tutte e due pausa idratazione intanto che mi sono la domanda ok per la domanda sugli affondi intendevo dire se per te è poco adatto allo sviluppo della forza dato che si maneggiano carichi bassi si no 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 ok se intendi gli affondi come esercizio di forza non particolarmente affondi affondi no cioè se io dovessi scegliere un affondo in cui fare forza sarebbero gli affondi bulgari gli affondi passi avanti secondo me sono veramente da fare con pesi irrisori perché la gente tende a buttarsi totalmente su il ginocchio e non gradisce poi così tanto il ginocchio indietro ok ma instabile mentre l'affondo bulgaro comunque parti da fermo è un pochino più gestibile però comunque non lo userei come esercizio di forza quali sono le accortezze che mi daresti per evitare di farsi male al collo ah si l'avevo letta però tendenzialmente l'unica accortezza è cioè stare fermo col collo cioè nelle distensioni sopra la testa l'unica cosa è stare più che problemi cervicali i problemi cervicali te li fai alzando il collo cioè quasi tutti quelli che hanno problemi io li avevo ad esempio facendo panca e perché tendi ad alzare il trapezio il trapezio si contrae ti viene male al collo se tu stai con la grazie se tu stai col collo dritto retruso retruso in teoria ho tirato un bambino spero non si sia visto nella diretta se tu stai col collo retruso ovvero col collo come se volessi schiacciare qualcosa sotto il mento è ancora più difficile farsi male però nel senso basta che non guardi tipo in alto mentre fai mille guardi davanti non dovresti avere problemi io di stacco 210 di squat solo 130 e là allora è un bel divario a 77 kg come può essere vediamo ma avessi detto il contrario sarebbe stato più facile come fa allora ho leve nel senso che hai proprio leve squat scusa stacco mi azzarderei a dire sumo immagino che spiega un po' di più la questa problematica leve eh cazzo mi viene da dire solo leve ho problemi tecnici proprio marcati però se fai 210 con problemi tecnici immagino te ne accorgeresti quindi o brutta tecnica nello squat o sei tanto rigido o perché no blocco ment ah bene ottimo o mi viene da dire problemi nel senso che ti freni per paura di scendere cioè ci sono persone a volte ecco appunto poca mobilità ecco anche qui poca mobilità può essere dovuta al fatto che hai paura a scendere perché come dicevo ci sono persone che si rigidiscono talmente tanto nello squat che non vanno giù o se vanno giù ci vanno solo con poi pesi relativamente bassi o tu sei veramente un bacco un bacco di legno nel senso però non non conoscendoti non te lo posso dire eh sì però la mobilità può essere sicuramente un problema alla fine nello stacco riesci a tirarlo su lo squat appunto col fatto che devi scendere col peso sulla schiena è molto più complicato però è un gran bel divario cioè divario così tanto è raro da vedere sui dip zaporati che range di ripetizioni consigli arrivare vicino all'unerm e allora guarda ti dico io odio arrivare all'unerm quando faccio le dip perché sembra un bacco di legno eh sì immaginavo appunto allora lavora tanto su come dicevo box mobilità front squat anche ti aiuta magari a scendere perché comunque devi andare giù a bomba quasi culo a terra per assurdo che lo usano in pochi potresti fare anche squat a multipower perché con il fatto che è una linea guidata se tu ovviamente ti ci approcci con la stessa tecnica più vicino possibile con cui fai squat ti permette di scendere molto di più stare molto più tranquillo consiglieranno me e dicevo sulle dip non scenderei io odio scendere sotto le 5 ripetizioni figurati perché è la prima ripetizione quella che ti fa sentire il carico cioè tu devi scendere precarichi bene il dorsale che comunque ti rallenta e fatta la prima le altre vengono meglio non ho mai fatto il massimale di dip perché sinceramente io ho il terrore di cioè le dip sinceramente mi fanno paura non succede che rimani incastrato in basso ma se succede non mi ci vorrei davvero trovare stacco sumo male 160 è di regola 2.10 sì sumo ti viene bene nonostante il il blocco di mobilità intanto cosa ho visto prima ciao domanda 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 quanto prendi per fare il cocino online uno non fatemi parlare di cose economiche nelle dirette ti posso dire cosa hai compreso ovvero praticamente una cosa che mi ha cambiato veramente tanto è il modo di fare coaching se qualcuno lo vuole provare ovviamente consiglio gratuito telegram perché non do il numero di telefono ma allo stesso tempo ho una chat e avere una chat con cui parlare con la gente che seguo è estremamente rapido ovvio che non ho tempi di razione immediati perché ho il difetto di avere una vita però la gente ti manda ti riesce a mandare un botto di video rapidamente quando lo usavo l'email era un processo infinito riesce a dare consigli volendo anche in allenamento questa è la principale cosa che faccio che mi fa piacere fare cioè riuscire ad avere un controllo costante dei video delle persone devo ammettere che infatti da quando lo uso è cambiato molto anche il modo in cui faccio coaching cioè mi dà molte più soddisfazioni riesco a vedere addirittura dei test massimali in diretta a volte leggermente indifferita e poi niente coaching normale cioè faccio analisi dei video in base ai difetti si cerca di colmare i difetti della programmazione con dei complementari specifici e via altrimenti classiche schede di ipertrofia o power building o che sia che però richiedono mi è caduta la penna richiedono meno meno analisi tecnica di video eccetera però veramente telegram è veramente utile lo criticano tutti dicendo che è da nerd che è meglio whatsapp però telegram è veramente un bel programma cosa ne pensi dell'allenamento dei trapezzi particolarmente in un piano in un piano o se in un programma pieno zeppo di stacchi ma no allora sinceramente l'allenamento dei trapezzi secondo me è una grandissima cagata tendenzialmente perché cioè se i polpacci vanno allenati direttamente i trapezzi hanno già una marea di lavoro cioè ovviamente dividendolo con l'accetta in basso centrale alto l'unica parte che può avere senza allenare è la parte alta quella che alza le spalle però ho anche notato che su moltissime persone causa una rigidità pazzesca cioè ti blocca veramente il collo e non ha poi tutti sti risultati ipertrofici cioè per assurdo è vero che un trapezio veramente sviluppato lo vedi nei dopati tendenzialmente perché cresce tutto cresce anche il trapezio io natura la parte tutto con sti trapezzi enormi devo ancora vederli scusate la generalizzazione estrema però è vero un trapezio te lo fai comunque con tutti gli altri esercizi non c'è l'esercizio magico puoi fare le scrollate se sei uno di quei fortunati che non ha poi rigidità per tutta la settimana successiva ad esempio facevo le scrollate ma non poi ero veramente bloccato di collo scusate mi sono perso intanto scorrivo nelle domande ma stavo delirando coi miei scusa cosa ne pensi ovviamente ok ultime domande qua in diretta ogni tanto mi perdo esercizi in modalità per eliminare la tecnica dello squat e è difficile farli da seduto dovrei procurar un modellino no tendenzialmente una cosa che consiglio assolutamente ci farò un video probabilmente settimana prossima o quella dopo la sfida dei 30 minuti di squat di idoportal che non è altro che nel cercare di stare in una giornata 30 minuti in squat stile turca per intenderci a terra talloni a terra si sta in squat io veramente l'ho provata a fare una volta perché avevo veramente fatica a stare in squat e invece facendo questa stronzatina perché al fine è una stronzata cioè lo fai visto da fuori sembri un poveraccio e invece ti migliora un sacco la tua capacità di stare in squat cioè se tu non sai stare in squat retroversione cioè proprio in posizione di rilassamento però se tu non sai stare in squat non sai neanche andarci con un soprecarico se neanche sai riposare in quella posizione e abituarsi a stare in quella posizione è veramente utile quindi per tutti quelli che hanno problemi di mobilità dello squat suggerirei davvero di partire dal basso e di fare questo tipo di esercizio cioè cumulativi nell'arco della giornata magari 30 minuti sono oggettivamente una gran rottura di palle però una volta che hai quella mobilità non te la togli più a meno che non ti impegni ovviamente una variante per aumentare la stabilità in squat stabilità in che senso? potremmo andare discesa lenta con un fermo in buca beh sì ah di quel tipo sì 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 alla fine quando uno ha questo tipo di problemi tendenzialmente ha anche da sé la risposta perché capisce dov'è il punto in cui ha più problemi quindi nel tuo caso sicuramente quella è la soluzione ho un astornuto che non arriva quindi scusate se faccio facce strane schede a petto tricipiti la monofrequenza 4 esercizi per petto e 3 per tricipiti troppi esercizi può andare e a livello di dire esercizi non vuol dire niente perché tu puoi fare 4 esercizi da una serie e 4 esercizi da 20 serie quindi conta semplicemente il volume che usi ah sì faccio se regola che assumo con 210 ah ok ok no allora guarda lavorerei a proposito di squat con quella cosa che ho appena detto cioè secondo me stando in in squat abituarsi a fare quella challenge dei 30 minuti di squat di do portal se scrivete su google challenge squat di do portal è la prima slide che compare appunto propone di stare questi 30 minuti in buca e secondo me per tutti quelli che si sintono rigidi hanno paura a scendere alzano i talloni in buca soprattutto è un esercizio assolutamente consigliato perché davvero piuttosto che fare mille esercizi come cosa stavo dicendo box squat cose così può avere tantissimo senso invece fare esercizi partendo al basso quindi ve lo consiglio mi è partita la connessione tornata se no ho visto un momento di vuoto stance ideale per squattare mi trovo bene con una stance abbastanza larga ma diventa mezzo sumo provarla più stretta no squatta come ti viene bene non c'è problema perché cambiare puoi usarla come complementare poi ovviamente quando si tratta di stance regolare sumo cose di questo tipo vale sempre il principio che devi variare in ottica complementare quindi puoi fare squat largo squat stretto eccetera ma sicuramente la cosa che aiuta di più è in tutto questo inserire complementari riuscire poi a trovare l'esercizio in cui tiri di più quindi non cambiare nel senso che metto via lo stance largo e faccio solo quello stretto cambia nel senso di passa da uno stance largo a usare a usare uno stretto allena entrambi quando magari usi carichi sopra l'80% guarda quello in cui in cui spingi di più io ad esempio anni fa quando facevo allenavo squat in ottica proprio powerlifting il mio più grande difetto è stato da una volta all'altra dire no minchia non va bene questo stance lo faccio largo il problema è che poi mi piantavo perché comunque non non riuscivo a spingere bene quei carichi alti e quando tornavo al vecchio stance dovevo riprenderci confidenza quindi quando si fanno questi giochetti sempre meglio non non abbandonare lo stance base ok sono costretto a soffiarmi il naso scusate ok non ce la facevo più vero che bisogna forzare le ginocchia in fuori in stacco regolare squat no nello stacco non c'è assolutamente motivo per cui tu debba forzare le ginocchia in fuori nello squat ni cioè forzarle in fuori ha senso nel momento in cui tu le chiudi però ha senso se tu vuoi fare squat alla pesistica cinese in cui devi stare verticalissimo quindi stai con le ginocchia che puntano alle nove un quarto però persona normale no basta che le ginocchia seguano le punte non c'è motivo di forzarle all'esterno all'esterno nello squat ok ma nello stacco assolutamente non c'è motivo per cui tu debba aprire le ginocchia non mi viene in mente sinceramente anzi ti aiuta proprio a meno che tu non faccia stacco sumo può avere un senso cioè ha senso perché allarghi le ginocchia e ti avvicini di più al bilanciere ma a regola no cosa ne pensi del conditioning negli allenamenti della forza ha senso sicuramente perché c'è tutta la parte cardio dove cardio si intende semplicemente riuscire anche a fare le scale che è importante ed è stratrascurata io per primo la stratrascuravo e tuttora la trascuro so che non fa bene perché è inutile allenarsi alleno 5 volte a settimana e poi avere capacità cardio zero quindi una delle classiche cose che si consigliano ma poi in prima persona non si fanno però sì se sei in ottica proprio powerlifting dove si intende quindi gara inserire anche solo della cyclette tapirulan circuiti circuiti non mi piacciono proprio però circuiti anche volendo può avere non so perché gioco cioè può avere non so perché andrebbe fatto gioco a rugby siamo in fase di preparazione per il campionato ok un consiglio per lavorare sulle possibilità su arti inferiori per esempio associare squat con scatti lunghi guarda seguo un giocatore di oddio non vorrei essere ucciso con confondere rugby col football vabbè scusate non è il mio ambito decisamente però mi occupo di un ragazzo che fa uno di questi due sport come preparazione atletica giugherai rugby comunque che mi ha detto avere avuto un botto di benefici da quando abbiamo cominciato a fare l'hip trust tant'è che ora glielo ho messo due volte a settimana mi ha detto proprio che da quando si è messo a fare l'hip trust i suoi scatti proprio sono migliorati quindi decisamente l'hip trust monolaterale bilaterale a terra insomma una cosa che lavori proprio sull'estensione sul lavoro del gluteo mi ha dato un sacco di feedback positivi infatti ora avita l'hip trust li metterò il più possibile quindi sì ma l'hip trust in generale è un esercizio vabbè sarà che seguo contrast che è un po' malato di mente quando si parla di di glutei parla solo di glutei però devo ammettere che l'hip trust è un esercizio stra sottovalutato che in realtà dà un sacco a livello di oddio ha un sacco di transfer per come l'ho visto io su squat e stacchine perché comunque tira forza un botto i glutei ambito preparazione atletica ha avuto questo feedback a me sinceramente mi a me piace cioè mi permette di allenare magari un pochino meno lo stacco che comunque io a livello di ginocchia non patisco un po' in generale e di inserire esercizi comunque che rafforzano le sessioni dell'anca senza dover per forza usare sempre squat sempre stacchi quindi hip thrust una domanda un po' diversa mi è piaciuta questa no la preparazione atletica comunque è strana cioè strana è difficile perché c'è la tendenza a molte persone a fare troppi lavori cioè anni fa era minchia sembrava che il powerlifting fosse la figurati la soluzione ad ogni sport cioè facevi MMA devi fare powerlifting serve un cazzo devi fare powerlifting se fai MMA cioè serve fare squat punk e stacco ma non ci puoi buttare giù una programmazione di powerlifting così come se uno fa rugby o qualsiasi altro sport cioè il fatto che si debbano sottolineo debbano usare comunque squat punk e stacco non significa che uno debba essere preparato cos'è di magico in quella barracia blu? è è presente Space Jam quando c'è Michael Jordan che dà la sua ricetta magica è uguale cioè ho la barracia blu per far bene le dirette però stavolta non ha funzionato perché prima ho detto venghi quindi no acqua sono diventato fortemente ecologista quest'anno e non compro più bottiglie di plastica poi vabbè va tutta puttana comunque però io nel mio mi sento sono felice nel mio piccolo semplicemente di non comprare più plastica o di inquinare il meno possibile diciamo dunque tornando a noi abbiamo ancora dieci minuti i miei vicini di sotto intanto hanno cominciato a urlare perché non sanno esprimersi in altra maniera avevo letto una domanda in diretta qui se avete delle domande fate pure che intanto ne approfittiamo in questi ultimi minuti è divertente perché scusate la parentesi cioè io quando poi guardo le brevemente queste dirette su youtube io sento la mia vicina urlare quindi immagino la sentiate anche voi se sto zitto però vabbè è fantastica questa cosa cioè come dovrebbe essere usata no nel senso allora si spiego quello che ho detto dell'MMA della preparazione atletica ha poco cioè secondo me ha poco senso cioè una programmazione di powerlifting ha come fine ovviamente il miglioramento del massimale e non solo il miglioramento del massimale ha come fine ovviamente migliorare se tu programmi bene il massimale per quella data cioè fare powerlifting significa fare uno sport che ha come qualsiasi altro sport una prestazione in un dato giorno a un lottatore di MMA quasi devi fare il contrario nel senso che lui deve fare una programmazione di panca scuoto o quel che è che in quel giorno cioè il vero giorno fulcro suo non è ovviamente una gara di powerlifting è andare su un ring a dare delle botte e non se ne fa niente di avere un massimale di squat di 180 piuttosto che di 190 kg cioè non è quello che fa la differenza quello che fa la differenza è il fatto che lui abbia una buona capacità di coordinazione dell'anca sia esplosivo queste cose qua e che abbia comunque una forza generale però per assurdo lavorerei in un'ottica più scusa forza generale quindi non per forza obbligarlo a fare un programma che prevede tre squat a settimana quanto più magari uno squat un front squat cioè ha molto più senso fare lavoro in ottica coniugato non a caso il coniugato l'uesside è un programma che va tantissimo nelle preparazioni atletiche perché è vario cioè la forza di questo genere di atleti secondo me non deve essere tra specifico settoriale come cioè fare panca ma che cazzo se ne fa uno tanto non è che con la panca imita il pugno quindi tanto vale fargli fare panca dip panca manubri cioè mischiare il più possibile quando arriva questo cazzo di starnuto non lo so probabilmente mi arriverà domani mattina una tragedia ma perché sono cagionevole io basta che la temperatura vada giù di 4 gradi e comincio già il disagio invernale ciò nonostante amo l'inverno volume ideale per distretto quadricipiti in termini ipertrofici settimane nella singola seduta intorno alle 10 poi ovviamente sta a te trovare un volume che tu ritenga essere allenante però io ad esempio ho quasi figurati ho quasi la metà di volume allenante per le gambe rispetto alla panca petto perché comunque avendo fatto gare di basta con questo è un cascatto vi prego che tra l'altro boh non lo so io ce l'ho me la tengo perché mi si infiamma tutte le volte che faccio leg raise aspetta tenuta la sbarra alzo le gambe per fare addominali e tutte le volte tac mi scatta l'anca e boh come ho risolto non facendolo non mi succede in nessun'altra parte alla fine come classico esempio esercizi per il mal di testa tiro testate contro il muro mi viene mal di testa smetti di tirare testate contro il muro semplice tornando indietro dicevo più un distretto lo alleni più risulta allenabile quindi dipende da te quanto volume riesci a tollerare sulle gambe ridurlo per concentrarsi sui femorali che sono tendenzialmente carenti no perché comunque più volume fai sui quadricipiti sui multiarticolari più vai a fare anche i femorali ovvio che puoi puoi sommare le cose vi prego no più puoi sommare le cose cioè se io faccio non so 20 squat ho già fatto 10 serie per i femorali ovvio che se la cosa significa puoi dover ridurre troppo gli esercizi di stacco eccetera se femorali carenti no però lavorerei in ottica equa a me scatta tutto anche non mi alleno guardate vi racconto sto aneddoto tanto ho ancora più 5 minuti vi giuro settimana scorsa mercoledì non mi alleno mercoledì scorso ho fatto tutta una diretta col ghiaccio sul ginocchio perché sono riuscito cioè mi sono infortunato da fermo non facendo nulla cioè mi sono alzato ero al computer come ci sono adesso mi sono alzato ha cominciato a farmi un male cane al quadricipite ma senza motivo ho avuto due giorni totalmente di ghiaccio mi sono ustionato il ginocchio con l'arnica da quanta ce l'ho messa poi è passato tutto cioè è passato tutto come è venuto però dal nulla infatti raccontarla la racconto perché fa ridere cioè ho fatto stacchi il giorno prima però gli infortuni venuti dopo 36 ore non avevo mai sentito parlare sono un primo caso ho notato una domanda sugli elettroliti ma sinceramente non ti so rispondere cioè se hai una carenza energetica durante il workout a meno che tu non faccia crossfit mai alzarsi al computer è la prima regola infatti no a meno che tu non faccia crossfit cioè difficilmente con un allenamento stile powerlifting bodybuilding hai carenze di elettroliti cioè carenze energetiche è da più sistemare la dieta piuttosto che prendere un vitargo durante l'allenamento ho risposto un'ora fa sì ha senso se il senso ce lo vedi tu tra la super serie ovvio che in ottica powerlifting pull e rematore sono totalmente rilevanti quindi se ci vedi un senso falle passaggio da squat a low bar con risultato addomos allucinante a gluteo e femorale normale sì perché appena male più scendi più vai a chiudi l'angolo del quadricipite quindi il quadricipite va a lavorare di più però ovviamente più scendi più poi il gluteo dovrà spingere per farti risalire se non sono a profondità a cui sei mai andato ovviamente lì il gluteo va tanto in allungamento e ci sta io ad esempio sono anni che nonostante tutto continuo ad avere domsa e femorali quando faccio stacco rumeno infatti stacco rumeno è un esercizio che odio perché poi non cammino per giorni quindi questo è quanto ho ancora un paio di minuti strarrisicati vediamo se mi sono perso qualche domanda scatto avete intasato con sto cazzo di scatto dell'anca no ok direi che ho risposto a tutto per oggi va bene direi che è interessante tutto sommato a parte giuro quel venghi che ho detto a metà per sbaglio leggendo me lo porterò dietro per tutta la settimana non la metto su youtube non posso metterla no ok allora domande direi che ho risposto a tutte mi sono arrivato un sacco di domande oggi però poi la storia dopo un po' me le blocca quando mi sembra superi le cento non te ne fa più andare quindi vedo se riesco a rispondere a qualcos'altro breve anticipo perché c'è allora da non alzarti che ti fa male infatti ho la sedia ho la sedia ancora le rotelle vado in giro con quella workshop ecco sì esatto volevo parlare proprio del workshop roma dovrei organizzare zona roma dove zona roma zona abbastanza ampia intendo diciamo anche raggio di 100 km da roma un po' tanto forse no vedevo ancora trovare una location nella zona però sì penso di farla verso fine novembre come zona del nord di qua quindi Liguria Torino e Milano probabilmente prendo proprio sede tra virgolette a Orada perché ora vogliamo fare una cosa interessante voglio fare una serie di workshop su più settimane quindi una settimana solo teoria una domenica magari il mese dopo solo fondamentali e il mese dopo ancora complementari perché voglio proprio fare una come dire un workshop sui complementari cioè non che sia noioso parlare sempre di squat punk a stacco perché domenica mi sono divertito un sacco il workshop durava quattro ore l'ho fatto durare cinque perché non la smettevo più di parlare correggere perché mi piace un sacco però secondo me introdurre i complementari secondo me veramente interessante quindi voglio fare un workshop solo sui complementari e probabilmente il primo che farò sarà sempre Oada devo decidere un po' come strutturare i vari workshop quando andrò in giro quello vediamo probabilmente teoria più pratica allora 20 secondi la battuta sugli scacchi non la leggo perché manca poco no allora grazie a tutti come sempre per aver partecipato alla diretta la carico su youtube e ci vediamo come sempre ormai appuntamento quindi ciao ciao